Un monumento ai caduti come ce ne sono migliaia in tutto il mondo, un monito professore per dire no alla guerra. No alla guerra ma fate la pace, fate l'amore. Praticamente la guerra a quei tempi, la prima guerra mondiale che avevano i nostri nonni. Allora parliamo della prima guerra mondiale che praticamente era una guerra di tri? Di tante persone, di trincea. Di trincea, c'erano la linea magica, la linea singapore, erano queste due linee che contrapponevano i tedeschi ai francesi. Quella non era la guerra mondiale, la guerra mondiale praticamente quando fessero la guerra ai nostri nonni che vinciano la guerra mondiale, quella era la guerra mondiale. Mentre i nostri babbi, la seconda guerra mondiale, hanno perso quella guerra mondiale. Che scoppiò nel 1920? Nel 1920? La seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale che in cui fessero la guerra, nel 1920 si sa, la guerra, la guerra, forse è scoppiata nel 39-40. Nel 39-40. Ecco. Forse. Forse. E loro hanno perso quello che hanno guadagnato i nostri nonni, e tu nonno e mi nonno, hanno perso il nipo, se avevano vinto l'Ulavia, la Francia, l'Inghilterra, erano tutta sotto l'Italia. Mentre noi adesso siamo sotto l'America. E' un altro scopo morale in cui gli americani vengono su e mandano via i tedeschi. Cioè l'oppressore, no? No, da questa oppressione è oppressionista. Io voglio dire, ora invece scoppierebbe una guerra nucleare. Nucleare, sì, quello si è senza meno. L'ordigno più tremendo che possa esistere, no? Infatti, l'ordigno più tremendo che possa esistere. La potenza dell'ordigno nucleare si misura in mega... In mega derz. Mega derz. E quindi più mega derz ha l'atomica e più è distruttiva. Infatti. Perché forma un fungo la bomba atomica? Per quale motivo? Perché l'Inghilterra è solamente un gas, è un gas che espande per tutto il mondo e distrugge la metà del mondo. Come l'ha fatto la Cina, che hanno tratto la bomba atomica. In Cina? In Cina hanno tratto la bomba atomica, ma non l'hanno amassati tutti. Però hanno tribolato parecchia gente, nascono i figlioni maliccenti. Per quale motivo si sarebbe fatta la guerra? Facciamo l'amore più che la guerra. Facciamo l'amore. Anche in considerazione del fatto che si fatica molto meno a fare l'amore. Infatti che fare la guerra. Che fare la guerra. Lo stioppo ci vuole lo stesso. Ficcia a pei signali, faccia a pei lucillini, faccia a pei... Bene, mi sente bene professore? Benissimo. Allora, considerando che nell'ultima guerra mondiale gli americani ci liberarono dall'oppressore nazifascista. In considerazione del fatto che le due Coree, la Corea del Nord, la Corea del Sud, hanno delle avvisaglie di guerra e speriamo che non si compia. Tenuto conto che la temperatura di Santa Maria di Leuca non è pervenuta, ci dica come si chiama il fruttivendolo di Monterchi. La papaglia. Grande, professore, un applauso al professore. Come fa a fare questi calcoli? I calcoli matematici. Matematici. 6 per 8? 48. E scitti, mica si scherza. Grazie professore. Prego. Ah. Bus. Bus.